La vertenza Stellantis, il futuro dello stabilimento di Melfi al centro del confronto tra regione e sindacati, assente l'azienda che al termine del tavolo ha fatto sapere di essere disponibile nelle prossime settimane ad incontrare il presidente Bardi. Prima campanella oggi per la gran parte di studenti lucani, il rientro in classe con qualche giorno di anticipo rispetto alla data ufficiale del 16 settembre. A Potenza il nuovo anno scolastico si apre con diverse novità. A 31 anni dalla tragica scomparsa di Elisa Klapsi, il sorriso della sedicenne uccisa da Danilo Restivo rivive nel cuore dell'Africa. Oggi in Congo l'inaugurazione dell'ambulatorio medico dedicato alla studentessa Potentina. Crisi idrica da oggi pomeriggio, le prime interruzioni, Rubenetti a secco dalle 18.30 alle 6.30 di domani mattina a Potenza e in altri otto comuni serviti dalla Diga del Camastra. Calcio di Serie C e già vigilia di campionato per il Potenza Rosso-Blu in campo domani sera al Viviani contro il Sorrento. Oggi la conferenza stampa pregara di Mister De Giorgio. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo sentivate dai titoli in apertura. Parliamo della crisi dell'automotive riaperto ieri in Regione. Nel tavolo sulla vertenza Stellantis, sindacati, istituzioni e parti datoriali a confronto per fare il punto sulle soluzioni necessarie a sostenere la ripresa produttiva e la tutela del lavoro e dei salari. Al termine dell'incontro l'azienda assente ieri per impegni già presi in precedenza ha fatto sapere di essere disponibile ad incontrare nelle prossime settimane il Presidente Vito Bardi. Sentiamo tutti i dettagli da Mara Ricciola. Un documento da presentare al Governo nazionale, nei cui punti è prevista l'approvazione della delibera di giunta che dà il via libera all'impianto energetico chiesto da Stellantis per autosostenersi, oltre alla quota di cassa integrazione del 20% da trasferire dalle aziende allo Stato. E' quanto sottoscritto ieri in regione tra le istituzioni, il Presidente Bardi, l'assessore Cupparo, i sindacati generale di Cigelle, Cisle Will e quelli dei metalmeccanici, oltre alle parti datoriali rappresentate tra gli altri dal Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma. Il tema oggetto del confronto è l'inarrestabile crisi dell'automotive con una contrazione delle vendite ed effetti su produzione e occupazione. Lo stabilimento Lucano è passato da 7.200 operai a circa 5.004, mentre le aziende che ruotano attorno all'orbita Stellantis continuano a ricorrere ai contratti di solidarietà, di fronte al crollo della produzione da 110.820 auto del primo semestre 2023 alle attuali 47.020. Il contraccolpo più duro lo subisce la logistica, con i circa 700 addetti in cassa integrazione a zero ore, senza contare la deadline del 17 settembre prossimo, quando sarà deciso il destino della Gigafactory di Termoli, con effetti anche su Melfi, di cui la necessità di azioni mirate. Poche cose ma farle, farle con un percorso condiviso con la Regione Basilicata. Questo documento, di nuovo, dopo il precedente documento che già abbiamo fatto, traccia un percorso che manda un segnale, anche questo documento deve essere mandato alla Meloni, al Ministro Urso, al Ministro Calderone, insomma al Governo nazionale. Il fatto che però oggi usciamo con un documento congiunto di tutte le parti che va sul merito, e il merito sono due questioni fondamentali. Una, approvare in tempi brevi quella norma che permette all'area industriale di Melfi, a partire da Stellantis, degli impianti energetici che possono abbattere l'energia. E due, quella norma sugli ammortizzatori sociali, che fortemente abbiamo voluto come organizzazioni sindacali, del 20% famoso, che può aiutare per il salario dei lavoratori. Il presidente di Confindustria Somma ha chiesto che i vantaggi energetici si riflettano anche sull'indotto, invocando un'accelerazione per la firma della delibera regionale. Se al tavolo c'erano sindacati e politica, mancava però la delegazione del gruppo. Un'assenza contestata soprattutto dalla CGL, che ha chiesto che il tavolo venga riconvocato alla presenza di Stellantis. Bisogna provare a stanare questa multinazionale per capire se c'è una prospettiva per lo stabilimento di Meffi reale, oppure il compito della politica è indirizzare verso altre soluzioni per non disperdere, per non far chiudere definitivamente la più grande area industriale della Basilicata. Coca-Cola Italia ha affidato a Nicola Donato la guida dello stabilimento Funti del Vulture, sito dove si imbottigliano le acque Lilia e Sveva. Il manager avrà il compito di far crescere lo stabilimento Lucano, che nel 2024 ha già visto 2 milioni di euro di investimenti in salute e sicurezza, efficientamento idrico e circolarità degli imballaggi. Il manager Nicola Donato, dopo un'esperienza in Maserati, è entrato a far parte di Coca-Cola Italia nel 2019 operando nello stabilimento di Marcianise, dove ha avuto un ruolo centrale nel percorso di recupero volumi, affidabilità e produttività dell'intero stabilimento. Oggi prima campanella negli istituti lucani che hanno programmato l'avvio dell'anno scolastico in anticipo rispetto alla data ufficiale del 16 settembre, a Potenza si parte con il piede giusto, trasporto e mense pronte, come annunciato dal sindaco Vincenzo Teresca che questa mattina si è recato nello storico plesso 18 agosto. Il servizio è di Mariolina Notar Giacomo. In Basilicata è fissata lunedì l'apertura ufficiale delle scuole, alcuni plessi in base alla propria organizzazione interna hanno anticipato l'avvio dell'anno scolastico a ieri, altre ancora ad oggi. Una partenza complessa segnata dal calo del numero delle iscrizioni alle prime classi, 1800 studenti in meno rispetto allo scorso anno. È l'effetto di natalità e spopolamento. In una regione che scompare si cerca di garantire un'offerta formativa di qualità. Al lavoro in tal senso l'amministrazione comunale di Potenza che ha attivato un tavolo permanente pubblica istruzione ed edilizia scolastica. L'obiettivo è dare risposte nell'immediato alle esigenze della comunità potentina. Il sindaco Vincenzo Telesca ha tenuto a battesimo l'ingresso nelle aule del plesso storico 18 agosto dell'Istituto Comprensivo Torracalavista. Come amministrazione abbiamo lavorato in questi mesi solo e soltanto per le scuole. Devo dire questo perché come sapete ci siamo insediati il 10 luglio, quindi già in corsa, quando già i lavori forse devono iniziare, sia per la ripresa scolastica, quindi per fare sì che si potesse entrare a scuola in modo tranquillo, ordinato e sicuro, sia per quanto riguarda la menza, il trasporto e quant'altro. Al via dunque trasporto scolastico e mensa, per quest'ultima si è scelto di portare sulle tavole solo prodotti biologici e con un'attenzione particolare al recupero delle eccedenze alimentari, garantita da subito anche l'assistenza alla comunicazione per gli allievi che ne necessitano, con un incremento del 18% di ore, mensili a disposizione, attenzione anche all'ambiente con la promozione del progetto Pedibus per la mobilità sostenibile degli alunni, il cui percorso formativo sarà seguito dall'amministrazione comunale con una prospettiva ampia. Ho voluto come delega assegnarla ad un non solo assessore, all'assessore Federica D'Andrea ho assegnato le deleghe che riguardano la scuola, quindi l'infanzia, la scuola, l'università, perché è un lunghissimo percorso e va seguito in modo organico, quindi si devono accompagnare i ragazzi dall'inizio, quindi dall'infanzia fino all'università. Ed è questo l'ho voluto proprio perché si deve cominciare a interagire non soltanto con la scuola ma anche con il passo successivo che è appunto l'università, perché l'università deve rientrare a far parte di questa comunità. Un inizio dell'anno scolastico segnato dall'entusiasmo per la consapevolezza di poter contare sul sostegno dell'amministrazione comunale. Il primo giorno di scuola è sempre un giorno che crea grande entusiasmo in tutta la comunità, genitori, allunni, collaboratori scolastici, il dirigente, i docenti, sono tutti pronti ad accogliere e a ricominciare con grande energia. Anche quest'anno dalla scuola dell'infanzia alla primaria e alla secondaria di primo grado siamo pronti ad accogliere i nostri allunni e a investire su di loro in una prospettiva di crescita. E voltiamo pagina all'azienda ospedalera regionale San Carlo di Potenza si unisce all'appello lanciato a livello nazionale per far fronte alla grave carenza di sangue che si sta verificando in questo periodo. C'è carenza in tutti gli ospedali, in particolare del gruppo Zero. L'invito è a recarsi nel servizio trasfusionale o nei punti di raccolta associativi di Avis e Fidas più vicini per donare, un gesto semplice che può salvare vite. Ricordiamo che può donare chi ha un'età compresa tra 18 e 65 anni con peso superiore a 50 kg in buono stato di salute. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio trasfusionale dell'ospedale San Carlo di Potenza al numero 0971612377 dalle 8 alle 13. Oggi 12 settembre a 31 anni esatti dalla tragica scomparsa di Elisa Claps il sorriso della sedicenne uccisa da Danilo Restivo rivivrà nel cuore dell'Africa. In Congo si inaugura l'ambulatorio medico dedicato alla studentessa Potentina. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Il sogno di Elisa di diventare medico e aiutare i bambini in Africa prende finalmente vita. Un desiderio spezzato dalla mano omicida di Danilo Restivo che si concretizza simbolicamente oggi a 31 anni dalla morte della sedicenne potentina uccise il 12 settembre 1993 i cui resti sono stati ritrovati soltanto il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, verrà inaugurata la sala d'attesa del presidio medico situato nel centro Don Bosco Ngangi con una targa intitolata La Giovane Potentina. Il progetto voluto dalla famiglia Claps è stato realizzato grazie alle donazioni effettuate a partire dallo scorso anno all'indomani del trentennale della morte di Elisa. Con i fondi raccolti è stato rafforzato il dispensario medico del centro di Goma. Si tratta di un angolo del mondo interessato da un violento conflitto armato che ha determinato una grave crisi umanitaria con 800.000 bambini che si trovano in una condizione di malnutrizione acuta e 2,1 milioni in malnutrizione moderata. Ecco perché ancora prima dell'inaugurazione, nel corso degli ultimi mesi, sono stati inviati i pasti proteici alla popolazione di Goma. Il progetto Il Cuore d'Elisa nel Cuore dell'Africa, coordinato dal VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, è già attivo sul territorio africano e sarà ufficialmente inaugurato oggi. In contemporanea Potenza si svolgerà un incontro al Teatro Francesco Stabile alle ore 20 alla presenza della famiglia Claps, dell'attore della fiction Rai per Elisa Gianmarco Saurino e del giornalista Pablo Trincia, autore del podcast dedicato al caso Claps, dove nessuno guarda. Una serata in memoria dell'ISA organizzata dal Comune di Potenza insieme al Presidio Cittadino di Libera, aperta all'intera città. I lavori lungo il raccordo autostradale Potenza-Sicignano tra gli svincoli di Buccino e Vietri di Potenza in direzione del capoluogo è stata ultimata la ricostruzione degli impalcati del viadotto Camardà, demolite e sostituite 14 campate, un intervento da 5 milioni di euro. Per aprire al traffico la nuova carreggiata bisognerà demolire il bypass provvisorio al chilometro 17-150 per consentire i lavori. Da oggi il doppio senso in direzione Salerno sarà esteso dal chilometro 15 al chilometro 17-800. I lavori che termineranno entro il 26 settembre consentiranno di eliminare l'attuale scambio di carreggiata proprio in corrispondenza del viadotto Camardà. Siamo alla crisi idrica da oggi. Rubinetti a secco per 12 ore dalle 18.30 in 52 vie della città di Potenza e in altri 9 centri serviti dallo schema Basento-Camastra. Parte così il piano straordinario di interruzioni che complessivamente riguarderanno 29 comuni fino a fine mese. Sentiamo i dettagli da Michelangelo Russo. Sono 52 complessivamente le aree della città di Potenza interessate oggi dalle sospensioni idriche che scatteranno alle 18.30. In tutto sono però 150.000 i lucani che subiranno a rotazione lo stop all'erogazione per 12 ore al giorno, esclusa la domenica, almeno fino a mercoledì prossimo secondo il piano settimanale pubblicato da Acquedotto Lucano. Dalle 18.30 fino alle 6.30 del mattino successivo Rubinetti a secco oggi non solo in alcune zone del capoluogo ma anche a Tito, Tito Scalo, Pietragalla Centro, Abitato e Frazioni al pari delle frazioni di Avigliano, Forenza, Maschito, Tricarico, Sanchirico, Nuovo, Castelmezzano e Pietra Apertosa. Sei i serbatoi che servono Potenza. Oggi le sospensioni riguarderanno quello di Gallitello. Il serbatoio da cui viene effettuato l'approvvigionamento idrico è indicato nella bolletta dell'utente. Inoltre, altra importante precisazione, il reintegro della fornitura previsto per le 6.30 per i residenti della città di Potenza potrebbe subire ritardi nelle zone più alte a causa dei tempi necessari per il riempimento delle condotte. Attivo in ogni caso 24 ore su 24, un numero verde gratuito per informazioni e il servizio SMS per gli aggiornamenti. Si tratta di un piano straordinario che al momento ne prevede l'attuazione almeno fino a fine mese con l'auspicio che l'arrivo della pioggia possa risolvere l'emergenza. Intanto la Regione è sempre in attesa di ricevere il via libera del Governo centrale riguardo il riconoscimento dello stato di emergenza che consentirebbe l'impiego di risorse extra da investire finalmente per realizzare interventi strutturali su dighe e condutture. E per quel che riguarda le interruzioni idriche a Potenza, la protezione civile è pronta ad assistere i cittadini. Stasera a partire dalle 19 fino alla mezzanotte sarà possibile prelevare buste di acqua nella sede della protezione civile di via Nazzario Sauro. Prima la siccità, poi la grandine hanno compromesso vigneti e oliveti del Vulture e gli agricoltori di Barile tornano ad appellarsi alla Regione. Il servizio è di Vittorio Laviano. Non smettono di chiedere aiuto gli agricoltori del Vulture Melfese che per la grandine di agosto incontrata Macarico a Barile hanno visto andare distrutti i raccolti di vigneti e oliveti. C'era pure chi aveva investito soldi per irrigare i campi quando la pioggia mancava da mesi. Abbiamo fatto l'impianto di irrigazione, abbiamo speso tanti soldi con la siccità adesso dalla siccità è venuta la grandine e ha tirato tutte le olive per terra e non lo so come fare adesso qua dobbiamo anche pagare l'acqua, l'irrigazione sono mille euro, mille e cinquecento euro di acqua andate a macchina per gli altri soldi. Le olive prima di andare perdute erano state tutte trattate con sostanze naturali costosissime. Ho fatto i trattamenti, adesso ho fatto anche quello per rame purtroppo anche con la grande devi ancora trattare per salvare il prodotto dell'anno prossimo. questi qua che è rimasto qualche oliva è tutto macchiato non è buono nemmeno per fare l'olio se vai a vedere non lo so come andare avanti. Lo sfogo di questa gente è comprensibile. Se è mandato i soldi se no l'anno prossimo abbandoniamo tutto e chi si investe si investe l'agricoltura e chi lo vuole fare lo fa perché senza soldi non si può fare l'agricoltura ci vogliono i soldi, abbiamo avuto la pera rospa e non è arrivata nemmeno una lira ma abbiamo avuto, è stata grande, speriamo che arriva qualche cosa se no come si fa ad andare avanti qua? Stipendi non ci sono, quasi si vive sulla campagna io sono agricoltore, coltivatore di rettile non è che sono braccianti o sono altre categorie o sono stipendiati queste ecco, una volta cacciate il frotto i mezzi ci sono, le rotture il motore ieri mille euro, stamattina un'altra cinquecento non lo so se non abbia questi soldi Nei campi della Basilicata a sovente ci sono lavoro anche dei pensionati che trascorrono giornate intere nella cura di una terra che talvolta diventa matrigna Dopo un'annata disastrosa dell'anno scorso quest'anno ci ha pensato pure il Padre Eterno a dare una mano a questi agricoltori io sono un pensionato, ho pure io un po' di vigneto e in queste condizioni non si può raccogliere niente con questi danni che ha subito Questa gente tuttavia non dimentica chi vive di agricoltura e pertanto invita gli amministratori lucani ad una riflessione attenta Uno che campa con la terra è un problema serio io credo che le istituzioni proprio per andare incontro a questi disagi che gli agricoltori hanno debbono fare una riflessione seria per intervenire concretamente e aiutare questi coltivatori questi protettori della nostra terra ecco, del nostro mondo agricolo E c'è da registrare l'ennesimo incidente causato da un cinghiale accaduto in pieno giorno sulla strada provinciale Pisticci San Basilio nel Materano nessuna grave conseguenza per i passeggeri dell'auto ma ingenti i danni all'autovettura come si può vedere dalla foto a causa dell'impatto con l'ungulato di circa 130 kg sul posto sono intervenuti i carabinieri sanitari del 118 il sindaco di Pisticci Domenico Albano sollecita gli enti preposti ad intervenire con urgenza per trovare una soluzione al problema che ha assunto proporzioni preoccupanti E siamo al calcio di Serie C il Potenza scendere in campo domani sera dal Viviani alle 20.45 contro il Sorrento oggi la conferenza stampa pre-gara di Mr. Pietro De Giorgio che potrete rivedere integralmente su Youtube intanto ve ne facciamo ascoltare un piccolo estratto incontriamo una squadra prima in classifica sta facendo bene, viene da due vittorie a un pareggio una squadra di buona qualità due stendi molto importanti una squadra allenata bene, organizzata noi abbiamo lavorato bene siamo pronti per affrontare questa partita ovvio che da parte nostra c'è rabbia per il risultato di Benevento quello che dico tra virgolette si è verificato nel senso che martedì ho trovato i ragazzi lunedì alla ripresa i ragazzi erano un po' giù ma perché sentivano di poter dare di più ecco che il risultato sicuramente non ha inciso però mi è piaciuta la reazione degli allenamenti perché ho visto i ragazzi adenarsi ancora più forti con grande determinazione abbiamo analizzato bene tutto quello che è stata la partita quindi vedo la squadra carica e pronta per appunto far vedere che da parte nostra ci vuole essere una grande reazione Il Picerno prepara la sfida di sabato sera a Catania un match che sarà un vero e proprio scontro al vertice visto che entrambe le formazioni sono al comando della classifica il servizio di donato Valvano Il Catania è già nel mirino dopo il pareggio a reti bianche contro la casertana mister Tomei sta già preparando la sfida di sabato sera alle 20.45 che vedrà il suo Picerno opposto alla formazione di Mimmo Toscano reduce a sua volta dalla vittoria in trasferta contro la Juventus Next Gen La partita del Massimino sarà una delle sfide di cartello della quarta giornata visto che entrambe le squadre si presenteranno al match da prime della classe sarà un vero e proprio scontro al vertice quindi tra una delle formazioni il Catania più accreditate per la vittoria del campionato e un'altra il Picerno che si candida anche quest'anno a recitare un ruolo da protagonista visto che di sorpresa non si può più parlare il cammino delle due squadre finora è stato identico con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di campionato con sette punti conquistati ed una sola a reti al passivo mentre i Lucani hanno segnato tre gol in più rispetto agli Etnei sette contro quattro al di là dei numeri mister Tomei sta preparando con dovizia di particolari la sfida in terra siciliana la prestazione contro la casertana infonde coraggio e fiducia perché al netto della mancata vittoria a giudizio del tecnico pescarese si è trattata della miglior prestazione dei suoi ragazzi dall'inizio della stagione per la gara di Catania Tomei spera di poter avere a disposizione anche parzialmente Bernardotto che è arrivato da poco ed è alle prese con un piccolo acciacco oltre a far lievitare il minutaggio di Volpicelli che nonostante le tre reti messe a segno è partito sempre dalla panchina perché non ancora al meglio della condizione in compenso potrà contare su di un maiorino in grande spolvero fino a questo momento ed è tutto per questa edizione torniamo alle 19 grazie per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie a tutti